Che triste e inquietante è la presa di posizione del Vaticano nella persona addirittura del cardinale segretario di Stato, cardinale Parolino, che attribuisce a Salvini e in generale i sovranisti un uso blasfemo del rosario, della devozione mariana e della religione. Forse che fu blasfemo quando Pio V, prima della battaglia di Lepanto, invocava la protezione della Vergine Maria, regina del rosario ed è tuttora la festività liturgica contro le armate turche, che se avessero vinto l'Epanto avrebbero cancellato l'Europa e oggi Roma sarebbe una città musulmana. Ma forse il bergoglismo e il sorossismo questo vogliono. Certo è terribile che si rivendichi l'idea che Dio è di tutti e i cristiani non possono parlare dei valori della difesa della civiltà cristiana mentre si lavora per cancellarla, mentre si lavora per una migrazione islamica, rispetto alla quale si invoca invece un unico Dio, anche quello degli islamici, che certamente non è lo stesso Dio dei cristiani, la Santissima Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo, Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo. Questa non è la religione degli islamici, né quella degli ebrei né quella di tutte le altre religioni. E allora chi è eretico? Salvini che brandisce il rosario e invoca l'immacolata concezione a difesa dell'Europa, Giorgia Meloni che sfida la mafia nigeriana e la mafia islamica nella difesa di una civiltà cristiana dell'Europa o sono blasfemi i costoro del clero romano dal quale la Chiesa ortodossa si dissocia vigorosamente, che invocano invece la visione di un deismo pseudo religioso, pseudo cristiano. Non credano che il clero vaticano abbia il monopolio della verità cristiana, non credano che abbiano il monopolio del Vangelo, non credano che abbiano il monopolio della devozione del Santo Rosario e dell'immacolata concezione di Maria, a cui noi ci giuniflettiamo e invochiamo la protezione dell'Europa nei confronti di questo crollo di civiltà al quale appartiene e di cui fa parte, anzi forse a gente, anche questa triste visione della Chiesa cattolica che è della gerarchia vaticano ma che non credo che sia di tutti i cristiani e ancor meno di tutto il clero. E questo io credo.